Partenza in grande per il Bobbio Film Festival con il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, davanti a una sala piena. Marco Bellocchio, che sarà il maestro di questa edizione di Fare Cinema, il corso di alta formazione e regia cinematografica che si svolge nello stesso periodo del festival, ha annunciato che il corto sarà interpretato da molti degli attori che saranno aspiti a Bobbio. Qui sarà un impegno importante per fare questo corto che riprende un corto di tre anni fa, però visto che c'è un gruppo di primo ordine e anche di tutti i collaboratori e gli attori, perché per un strano caso ci saranno dei grandi attori, da Fausto a Barbara Ronchi, a Fabrizio Gifuni, a Rocco Papaleo. Stamattina ho conosciuto solo quelli che riguardano il mio gruppo, però so che ho sentito che c'è un livello molto alto, molto serio, molto concreto, in passato c'è un clima, forse per una situazione che non è facile, che chi partecipa lo fa in modo serio, molto per apprendere, perché per delle prospettive di entusiasmo che gli piacciono, ecco, non è che vengono qui tanto per passare la settimana. Bellocchio ha aperto il festival con un ricordo del fratello Pier Giorgio, scomparso lo scorso anno. Bellocchio ha aperto il fratello Pier Giorgio, scomparso il fratello Pier Giorgio, scomparso lo scorso anno.